La crociera della musica napoletana, marchio registrato, è arrivata alla sua terza edizione. Ebbene, visto il consenso degli amici e del pubblico, possiamo dire che può essere considerata uno dei pochi eventi campani in cui, adeguatamente, la canzone classica napoletana viene rappresentata in giro per le città del Mediterraneo e, speriamo in futuro, anche nelle altre città del mondo, toccate dalle meravigliose navi da crociera, location ideali dei nostri eventi. Con la crociera della musica napoletana, siamo riusciti a sdoganare le nostre canzoni e la nostra musica, che negli ultimi anni era rimasta inspiegabilmente ridotta e relegata ad un fenomeno regionale. Con la nostra crociera evento, siamo riusciti a stimolare la curiosità di tutti gli appassionati oltreoceano, facendo comprendere che Napoli è una delle poche città che può vantare un patrimonio artistico musicale unico al mondo. Basta quindi solo con attività regionali o di quartiere, è arrivato il momento di portare la nostra grande tradizione oltre i confini della nostra regione, di rinnovare il nostro repertorio e scoprire nuovi talenti. Yes, we can, ciò Putin ma fa, perché Napoli può e deve. La prossima edizione si effettuerà dal 10 al 17 ottobre 2010, a bordo della Magnifica, la nuova ammiraglia della MSC. Non perdere l'occasione, perché i posti sono limitati. Inoltre bastano solo 50 euro per bloccare il costo della cabina, che potrebbe subire aumenti man mano che ci avviciniamo alla data di partenza. Se hai timore di pagare le penali in caso di mancata partenza, niente paura, per le crociere con la Scoop Travel non paghi penali e inoltre puoi pagare come preferisci. Diventa anche tu un testimonial della canzone classica napoletana e della Napoli che produce cultura. Ricordati di noi e parlane con i tuoi amici. Crociera della musica napoletana, dal 10 al 17 ottobre 2010, a bordo della MSC Magnifica, con Scoop Travel e tanti, tanti amici che come noi amano Napoli. Ciao! Grazie a te! Grazie a tutti